Gentili telespettatori ben ritrovati al consueto appuntamento ben ritrovati nel nostro salotto in questa nuova puntata parleremo di territorio parleremo di San Polo di Piave, un piccolo paese del Trevigiano qui abbiamo ospite con noi il suo giovane sindaco Nicola Fantuzzi benvenuto Nicola Salve a tutti, ciao Ida Pensate che lui è il più giovane sindaco del Trevigiano ma Nicola come ti è saltato in mente di fare il sindaco così giovane? Te lo aspettavi oppure no? Diciamo che è stata sicuramente una scelta azzardata sotto un certo punto di vista probabilmente anche poco conscia, poco consapevole di quello a cui andavo incontro però in realtà si sta rivelando davvero un'esperienza intensa e molto bella Ma parliamo del tuo piccolo paese, un paese che però sembra uscito da una favola un paese di 4.000 abitanti, San Polo di Piave Sì, il nostro territorio, il nostro comune è a metà praticamente tra le colline dell'UNESCO quindi Cornigliano e Valdobiadene e Venezia quindi anche da un punto di vista proprio turistico è proprio un punto di passaggio e anche comunque meta strategica per poter andare a visitare sia il mare che la montagna Questo, diciamo, da sempre San Polo è stato comunque un centro dapprima dal punto di vista agrario e lo conferma tutt'oggi con la sua vocazione prettamente agricola Certo, punti di interesse di San Polo di Piave Bah, San Polo di Piave soprattutto come punti di interesse ha sicuramente la villa, il castello Papadopoli Giol che è proprio nel centro del paese con un parco di 3 ettari e un lago visitabile tra l'altro anche una chiesetta di epoca post romana quindi con affreschi e una grande storia anche dal punto di vista di reperti acquedotti romani eccetera e poi anche dal punto di vista enogastronomico chiaramente tante aziende, tante aziende vitivinicole che mesciano un pochettino tra l'accoglienza quindi con attività agrituristica alla vendita e alla cultura poi del territorio Certo, come hai detto tu non si può non parlare del vino della vostra zona Beh, certamente Un settore in crescita, continua Diciamo, come dicevo prima, appunto da sempre la vocazione agricola nel nostro territorio è stata prevalente Nell'epoca degli anni del novecento soprattutto grazie alle grandi famiglie proprietarie terriere e comunque a una popolazione che viveva soprattutto di mezzadria Oggi appunto l'evoluzione e il boom dell'economia nella viticoltura ha generato un sacco di aziende che oltre ad avere a cuore il territorio e valorizzarlo esprimono anche grande qualità con i prodotti che esportano in tutto il mondo Ma il tuo territorio, noi questa mattina abbiamo fatto qui l'albero di Natale siamo già in atmosfera natalizia però parliamo un po' del tuo territorio quanto bello è in questo periodo? Fine ottunno, di che colore diventa San Polo di Piave? Beh, il colore prevalente chiaramente è il giallo-arancio Giallo-arancio Perché appunto tra... abbiamo la fortuna di avere appunto grandi parchi e quindi avere molte foglie e molti alberi che in questo momento cambiano colore e danno proprio la sensazione, no? L'arrivo del freddo, l'arrivo un po' anche della nebbia perché chiaramente abbiamo anche quella e poi chiaramente lo spettacolo dei vigneti che in questo momento cambiano colore e ogni varietà poi ha il suo colore specifico perché le varietà bacca bianca hanno dei colori più sul giallo le varietà bacca rossa hanno dei colori invece più sul rossastro quindi dà veramente un bel movimento E te lo stavo proprio dicendo io, deve essere meraviglioso ti pensi magari un po' di nebbiolina, un buon bicchiere di vino, il caldo di un caminetto E le castagne che in questo periodo vanno proprio di moda Sono molte buone, ma cosa si può volere di più della vita? Non si può No, esatto Oltre alla storia, a San Paolo di Piave esprime anche un importante premio letterario che quest'anno giunge al suo quarantesimo compleanno un premio importantissimo la quarantesima edizione del premio letterario Gambrinus Giuseppe Mazzotti che da quarant'anni onora la figura e l'opera di Giuseppe Mazzotti ma prima di spiegare ai nostri telespettatori chi era Giuseppe Mazzotti io voglio proprio chiederti da dove nasce questo premio? Beh, diciamo che la sua storia è particolare perché nasce sostanzialmente da un incontro che c'è stato da un rapporto che si è creato nel tempo tra appunto Giuseppe Mazzotti e il proprietario della locanda Gambrinus, il ristorante Gambrinus, il cavaliere Adriano Zanotto Mazzotti era spesso ospite del ristorante e alloggiava lì nella locanda e in questo suo sostare sostanzialmente raccontava le sue vicissitudini, i suoi viaggi, i suoi racconti e da questo è nato un grande rapporto che si è consolidato nel tempo nel 1981 poi dopo la morte appunto il cavaliere Zanotto assieme con il comune di San Paolo di Piave con la partnership anche del Touring Club hanno deciso di istituire questo premio letterario in memoria di Giuseppe Mazzotti ma soprattutto in memoria e ricordo delle battaglie che lui ha portato avanti nella sua vita. Ma adesso spieghiamo bene bene chi era Giuseppe Mazzotti Giuseppe Mazzotti era mi viene a dire soprattutto una persona curiosa lui nella sua vita ha fatto tante cose ma soprattutto tre sono quelle che lo hanno colpito lo hanno in un certo senso, gli hanno fatto dedicare la maggior parte del suo tempo la prima è l'amore per la montagna, quindi l'alpinismo, lui anche come giornalista faceva servizi e andava a fare camminate anche all'estero, in Sud America piuttosto che in India nella zona dell'Himalaya e lui ha anche scritto uno dei suoi libri, si intitola La montagna presa in giro Esatto, fu uno dei primi proprio a testimoniare e a mettere proprio su carta il disagio della montagna per quanto riguarda la non curanza o la poca curanza che chi frequentava il mondo, il paesaggio della montagna sostanzialmente non si preoccupava di cosa lasciava indietro dai bivacchi piuttosto che agli spuntini fatti durante il percorso e questo suo sostanzialmente vedere questo spreco, questa non curanza lo ha portato a scrivere questa opera Certo, e poi la sua curiosità per le ville venete, una curiosità che portava a tutti Lui è stato uno, proprio un appassionato, un amante della cultura veneta non a caso proprio, possiamo proprio identificare in Giuseppe Mazzotti uno dei pionieri anche per quanto riguarda lo spirito veneto lo spirito anche proprio nell'amore che esprimeva verso il suo territorio e l'istituto per le ville venete che abbiamo oggi sostanzialmente lo dobbiamo grazie al suo impegno e al suo lavoro Oggi abbiamo tante ville venete ristrutturate grazie al suo richiamo e alla sua battaglia per recuperare questo patrimonio storico che il nostro territorio ha E poi per finire l'artigianato locale e le tradizioni della sua terra Esatto, lo sappiamo tutti benissimo, viviamo di tradizioni, le tradizioni sono parte di noi stessi e Giuseppe Mazzotti in questo ha fatto un altro passaggio della sua vita andando sostanzialmente a raccontare e a valorizzare quello che era il piccolo artigianato locale e portandolo sostanzialmente alla conoscenza del pubblico attraverso i suoi scritti Noi con le telecamere di itinerari turistici saremo da voi proprio per portare ai nostri telespettatori a casa tutte le vostre bellezze tutti i vostri tesori che sono tanti, arte, cultura, territorio, enogastronomia non ci manca niente, naturalmente saremo presenti anche al quarantesimo di questo importantissimo premio con uno speciale dedicato proprio a questo grande giornalista e grande concittadino Naturalmente mi inviti a prendere un bicchiere di vino nella tua zona in questo periodo bello magari davanti a un camminetto e guardare fuori un po' di nebbiolina, magari un po' di tramonto Cosa dici? Diciamo che è d'obbligo, volentieri ti invito, ti aspetto a conoscere San Paolo di Piave e farlo conoscere anche a tutti i telespettatori che potranno girare un attimino e speriamo farsi anche incuriosire da questo percorso che faremo insieme e poi un arrivederci anche a tutti quelli che vorranno venire a visitare il nostro comune e a dare sostegno anche alle nostre attività commerciali che di questo territorio fanno parte integrante Grazie Sindaco, grazie Nicola di essere stato qui con noi Noi ci vediamo presto al preno letterario e grazie anche a voi gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia Vi do appuntamento alla prossima puntata del Salotto di Ida Buona serata Buona serata Buona serata Buona serata